Noi chiediamo un intervento forte sia strutturale che congiunturale, sotto il profilo congiunturale intervenire su ciò che nel breve periodo può essere fatto dai componenti fiscali e parafiscali agevolando il settore manifatturiero energivoro e gassivoro da un intervento su un tetto che noi ospichiamo sia europeo al costo del gas ma qualora in sede europea non si trovi una convergenza noi proponiamo un tetto italiano al prezzo del gas anche perché abbiamo chiesto e ottenuto che la RERA studi i contratti a lungo termine delle imprese che erogano questa energia perché dobbiamo intervenire a monte sul costo del gas e non poi tassare le derogalizzazioni poi servono interventi strutturali Se posso chiederle che ne pensa? Ha sentito gli annunci sul maxipiano energetico Repower You presentato ieri da Ursula von der Leyen che ne pensa di questo piano? È un piano ambizioso certamente interviene in un momento di grande dipendenza da un paese geopoliticamente molto preoccupante come la Russia sono preoccupato della nostra capacità come sistema paese di cogliere questa opportunità del piano perché non le devo citare le migliaia di pratiche bloccate da anni nei cassetti da pubblica amministrazione sulla produzione delle energetiche No, sorridevo a questa sua riflessione perché ieri il Ministro Cingolani ha detto per l'Italia nessun problema su certe misure siamo persino in anticipo ha detto Guardi, io non so a cosa si riferiva il Ministro conosco le ambasce dei nostri colleghi che non riescono a cogliere le opportunità che vogliono investire sul rinnovabile ma trovano una pubblica amministrazione ancora incapace di dare risposte di fare una vera programmazione e da anni che parliamo e chiediamo un piano industriale, un piano energetico per il paese che siano correlati e la risposta credo sia sotto gli occhi di tutti siamo estremamente esposti quindi la risposta e gli strumenti sono tanti e sono tutti da mettere in campo di breve, di medio e di lungo periodo Allora, tolgo a Giordano Bologuerri e di dentro